come mancare a qualcuno molto. Allora, se vuoi mancare a qualcuno molto, con poca fatica, ma lasciando un segno davvero, rendendoti indimenticabile, prova a applicare questi suggerimenti che saranno dei suggerimenti interessanti, perché faranno sì che gli mancherai e che penserai a te. Per fare questo è utile utilizzare tutti i bias della psicologia, che la psicologia ci offre, ci mette a disposizione. Quali sono queste cose? Intanto noi sentiamo la mancanza di qualcuno quando questa cosa non è di facile possesso. Tutto quello che è di facile possesso ovviamente non possiamo sentire nella mancanza. Tutto quello che è facilmente usufruibile, diciamo così, anche se da un certo punto di vista è essenziale, non ce ne andiamo conto, non diamo un grande valore. Pensa ad esempio a un bene come l'acqua. L'acqua qua è in occidente, fortunatamente, per ora, perché poi non sapremo com'è, è un bene essenziale l'acqua, senza l'acqua non vivi. Però, tutto sommato, ci sono persone che sprecano pure, non so, per farsi la doccia consumano litri e litri d'acqua. Viene sprecata, di fatto, viene trattata senza dargli il giusto valore. Nei paesi in cui invece l'acqua è un bene prezioso, perché ce n'è poca, beh, è tutto un altro film, tutta un'altra storia. Ovviamente poi, questa è una parentesi che non c'entra. Noi ragioniamo con una mente molto limitata, perché anche qua da noi, l'acqua, secondo tutti gli studi, diventerà presto un bene prezioso, perché mancherà, anzi sarà la cosa che mancherà di più. E l'umanità, diciamo, sta un po' perdendo, stiamo un po' perdendo la visione, proprio perché ci sono questi bias che agiscono dentro di noi. Tutto ciò che possiamo accedere facilmente non viene considerato come un bene prezioso. La stessa libertà di movimento non era considerato un bene prezioso, fin tanto che le circostanze ci hanno fatto sì che per tempo, come dire, siamo stati tutti bloccati in casa. Insomma, la libertà la capisci quando stai nel gabbio, tra virgolette. La apprezzi. Ci sono tante cose che non ci mancano e che in realtà sarebbero essenziali. Allora, quindi se tu vuoi mancare qualcuno, devi avere queste caratteristiche. Devi non essere facilmente disponibile o comunque ci deve essere un vincolo, un grado di difficoltà alla tua usufruibilità, alla tua disponibilità. Le persone devono impegnare energie per ottenere qualche cosa. Questa è un'altra regola fondamentale. Noi ci innamoriamo quando mettiamo forza, mettiamo energie. Cioè, qualcosa diventa importante a seconda di quanto tempo gli dedichiamo. Più tempo gli dedichiamo, più energia gli dedichiamo, più una situazione, una persona, una cosa diventa importante. Beh, pensa ad esempio al valore che può avere una casa, per fare un esempio. Se una persona ha fatto sacrifici, si è fatto il mutuo, ha dovuto lavorare di notte per potersi per mettere sta a casa. Anche una casetta piccola, diciamo, un monolocale, beh, avrà un grande valore per questa persona. Se una persona ha ereditato palazzi dappertutto, boh, il monolocale manca lo più in considerazione. Sì, va bene, ce l'ha, ma non è che gli dà nessun valore. Ecco, quindi che cambia veramente la prospettiva. È tutto veramente, realmente soggettivo. Quindi per mancare qualcuno devi renderti preziosa, cioè rara, quindi far percepire che tu hai un valore, in senso assoluto. E ovviamente percepirà il valore più impegno metterà. Questo lo puoi capire in tutte le cose, ma anche nel marketing, anche nei giochi, anche nelle cose stupide. Pensa che, ad esempio, non so, ci sono persone che giocano a giochini elettronici e acquistano all'interno del giochino, che ne so, una divisa particolare, una strumentazione particolare. E uno dice, ma che senso ha, diciamo, spendere soldi per, come dire, che ne so, le Skype particolari che però non sono reali, ma sono all'interno del giochino. Beh, perché quel giochino per te ha un valore, perché ci dedichi tanto tempo, ci dedichi energia, ci dedichi attenzione e quindi vuoi crearti un simbolo, uno status, una certificazione del fatto che comunque per te questa cosa è importante. Ed è importante perché gli dedichi del tempo. E lo stesso discorso vale nel... per mancare qualcuno. Per mancare qualcuno devi, prima, acquisire valore nei confronti di quella persona. E come si acquisisce valore? Beh, intanto, diciamo, cercando di apparire come capace di soddisfare i bisogni di quella persona. Un maschio, ad esempio, un uomo, avrà bisogno di sessualità, avrà bisogno di affettività. Insomma, fatti percepire come una donna femminile, una donna affettuosa, una donna di valore, anche di valori familiari. Una donna che gli farà piacere dire a sua madre o a suo padre, questa è la mia fidanzata. Certo, come dire, uno può perdere la testa pure per la ballerina di lap dance, ma, insomma, difficilmente potrà pensare che questa ballerina di lap dance, a meno che dipende un po' dalla famiglia in cui uno è cresciuto. Magari se la madre faceva pure la ballerina di lap dance potrebbe anche andare bene, diciamo. Però, al di là di questo, normalmente nei valori sociali, insomma, invece che ne so se una professionista fermata di successo, insomma, cambiano un po' le cose, no? Quindi, farti percepire di valore secondo i valori di quella persona. Che cos'è importante per quella persona? E non soltanto di quella persona, ma di tutto il suo entorazio, soprattutto il familiare. Per un uomo, ad esempio, che anche se ha dei conflitti con la madre, però il pensiero della madre, l'emulazione del mito genitoriale, cioè quello che la madre penserà, diventa fondamentale. Quindi, devi cercare di presentarti conforme ai suoi valori. Questo è un punto fondamentale. Devi cercare, ovviamente, di... i valori rappresentano la parte, il codice etico, diciamo, la parte cognitiva. Ovviamente, devi presentarti anche conforme a quelle che sono le sue esigenze emozionali, quindi le sue fantasie. Quindi, in questo caso, credo, la cosa migliore sia essere femminile, elegante, sensuale e seducente. Per, come dire, colpire un uomo di classe, un uomo che vale qualche cosa, non il catramista che ha si integrato, che magari gli va bene anche il puttanone da corsa da portarsi al parcheggio del cimitero, diciamo. Questo è un altro discorso. Ecco, una volta che tu, diciamo, ti sei fatta percepire come la donna giusta, da un punto di vista cognitivo, e hai agganciato la parte emotiva, proprio per... istintiva, per la tua femminilità, per il tuo essere raffinato, eccetera, il gioco è fatto, perché basta mettere poi dei vincoli, degli ostacoli, basta creare mistero, non sa, gli piacerò, non gli piacerò. Quindi, ogni volta che tu crei mistero, generi dubbio, il pensiero va sempre su quel dubbio lì, è una gesta alta per, perché non vedi l'ora di chiudere. Quindi, è una forma, qualcosa di non definito, per cui porterà l'attenzione su di te. Quindi, è molto importante apparire, appunto, come non inquadrabile, perché meno inquadrabile è una persona, più gli dedichi pensieri. Beh, pensa a rompicapo o qualunque problema. Nel momento in cui l'hai risolto, non ci stai più a pensare. Fintanto che non hai risolto, invece, dedichi il pensiero e l'attenzione. Quindi, apparire come, come dire, impescutabile, imprevedibile, misteriosa, fa sì che lui ti penserà. E anche qua, pensiero uguale energia. Più pensa, più ti dedicherà energie, più energie ti dedicherà, più si sentirà coinvolto con te. Ecco quindi che si innesca questo meccanismo. È un hack, potremmo definire un trucco psicologico potente. Perché dedicherai i tuoi pensieri, i suoi pensieri a te. E poi, ovviamente, devi fare una fuga. Una fuga, un allontanamento, dando giustificazioni o meno a seconda della tipologia del maschio. Se è un maschio iperlogico, dando sempre motivazioni. Non ho tempo al lavoro, non riesco a vederci. Non è che devi dire, vado con un altro. No, perché sennò squalificheresti. No, ma impegni, vari impegni, varie cose. Ho un invito, ho un invito a cena. Devo fare questo, devo fare quell'altro. L'amministratore delegato mi ha abitato a cena per parlare di lavoro. Insomma, inventi delle cose, tra l'altro, immettendo anche degli antagonisti, così, tra virgolette. Questo, ovviamente, se la persona è iperlogica. Se la persona è emotiva, se l'uomo è emotivo, beh, diciamo che devi dare molte meno motivazioni. Quasi nulla. No, non riesco. Mi spiace un periodo così. Paf. Senza dare una giustificazione precisa. Proietterà. Perché la persona emotiva ha bisogno di proiettare. Ovviamente, devi capire se una persona è iperlogica o una persona emotiva. Su questo ho fatto tanti video. Digita Taramaschi per logica Taramaschi emotiva su YouTube e ti verranno fuori una serie di video per cui potrai andare a vederti e capire esattamente. Ecco, quindi, nel momento in cui hai fatto questo, inizierai a mancare quella persona. C'è un capitolo che riguarda la sessualità anche. Diciamo che l'uomo, il maschio in generale, non si innamora facendo l'amore, ma si innamora desiderando di farlo. Però, in una relazione, devi farlo. Prima o poi, insomma, dopo aver tirato un po' la corda, comunque dovrai farlo. A quel punto lì, una volta che l'hai fatto, dovrai essere però infrequente. Dovrai, ciac, dileguarti, in modo tale da lasciare dei dubbi, gli sarà piaciuto o non gli sarà piaciuto. Sparire per un po'. Ovviamente devi dare il meglio di te stimolare intensamente. E i rapporti, paradossalmente, devono essere intensi ma infrequenti, in modo tale che pregusterà, gli mancherai tra, tra virgolette, una sessione e l'altra. Ecco, quindi queste sono un po' tutte le cose che dovresti mettere in atto se vuoi far mancare a qualcuno, se vuoi far perdere, tra virgolette, la testa a qualcuno. E mancargli anche molto. Prova a seguire questi consigli e vedrai che riuscirai a raggiungere dei grandi risultati. Molto più di quanto tu possa pensare. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, ti mando la campanella, così riceverai la notifica del mio video. Se clicca su quello c'è, ne fai una piccola donazione e ben accetta!